VAMOS, SCENTO PICK, CONTENUTO, RAGAZI, DEVASTANTE VEDIAMO CHE RUISCIMO A BECCARE E' USCITO BANGIO STASIRA, DEVO LEVARE ANCHE IL CRONOMETRE, HA RAGIONE, BRADERE E' USCITO IL LIVING CODIINO, E' USCITO, RAGA Ciao Niki, bello Antonio, come è stato, raga, tutto bene? Sì, sì, BANGIO, sì, sì, vuoi invitarmi, viva Va bene, va bene, invitatevi, ragazzi BANGIO CHI DENOVE SFIDE, ANTONIO, SE NO PUI SAPERE BANGIO CHI DENOVE SFIDE Però vabbè, con i dobbini diciamo che te la cavi tranquillamente Quando hai buttato i dobbini te la cavi tranquillamente Mamma, che carta che c'è a BANGIO, ah, ragazzi Sì, puoi invitarmi, viva quando vuoi, non ti preoccupare No, insieme sono ripati, mi sa, ragazzi Se volete ricevere la beta di FC25, dovete, ovviamente, mandami un messaggio, boys Mi raccomando, sì, su Insta, ragazzi, dovete seguirmi e mandami un messaggio su Insta Sto inviando il link per la richiesta della beta, quindi dovete seguirmi su Insta, ragazzi Solo quello dovete fare, nient'altro, ragazzi No, Tex, credo sia un bug, dovete guardare dalla Companion Credo sia un bug quello, però Sì, sì, hanno messo un baggio, hanno messo, ragazzi, hanno messo un baggio Figata Bellissimo, bellissimo, ragazzi Allora Sì, divino codino, ragazzi Codino, allora Mamma mia Eh, l'ho visto, ho visto, ho visto Ma magari, ragazzi, magari Magari sì, ragazzi Sono 50 pic, ragazzi Mamma mia Eh, sì, puoi invitarmi quando vuoi Tanto qua siamo, brother Qua siamo, quando volete vi invitate via, facile Eh, baggio è carino, eh, ragazzi Baggio è carino, fighter Per noi nostalgici è un toccasano incredibile, bro Mazzai, non vanno i server, ragazzi Non vanno i server, ragazzi Non ci voglio credere No, baggio per noi nostalgici è un toccasano incredibile, ragazzi Cioè È il got definitivo, ragazzi È il got definitivo Sì, che vi do il link della beta Tranquilli, iscrivetevi su Insta, ragazzi Ve lo so da tutti quanti, ragazzi Ovvio, 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 ragazzi Baggio costa 400.000 gretti, ragazzi Non costa neanche mezzo milione, voglio dire Cioè, si può fare tranquillamente, eh, ragazzi Sì, dai, non costa veramente nulla Non costa, eh È fattibilissimo, baggio Sono contento che almeno abbiamo una carta devastante di Elbon Elbon di Vicodino, ragazzi Bello, eh Meno male Ci sta, ragazzi Pagutone Eh, qua Taranto si muore Si muore davvero Si muore davvero No, niente cosa l'ho bagnito, comunque Ce l'ho già L'ho presi quando avevo 18 anni L'ho presi un bel bel po' di tempo fa Ragazzi, va bene, ste, va bene, grazie Sì, 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 ragazzi Baggio, nove sfide Eh, vuole 400.000 gretti, raga Quindi con calma si può fare tranquillamente, ragazzi Senza problemi, raga Lycon è uscita infinita, ragazzi Sì, è uscita infinita Lycon, raga Certo Faremo anche un contest Lo faremo anche su TikTok Quindi seguitemi su TikTok Perché un contest Lo faremo anche su TikTok, ragazzi Regalerò ad uno di voi Oltre che quelli su Insta Che facciamo Ne faremo ancora altri tre Ho la possibilità di farne anche altri tre su Insta Quindi seguitemi su Insta Perché là voi saprete quando li farò i contest Ma ne regaliamo uno anche a chi mi segue su TikTok Ne farò anche uno su TikTok Però lo faremo dopo Ferragosto, ragazzi Quindi già, quindi potete già seguirmi su TikTok se volete Non ti metterai su Ultimate Team Guarda che non riusciamo neanche a aprire i pick noi, Andrei Guarda che non riusciamo neanche ad aprire i pick noi I server sono completamente a pezzi, ragazzi Se volete saperlo, lo sapete, ragazzi Sì, sono completamente a pezzi Stiamo cercando di... Provando, cercare di riuscire a... Ad entrare, ma niente, ragazzi Niente di niente di niente, ragazzi Eh, Shoot Bellingham è bellissimo, tanto Magari lo becchiamo anche noi col Bellingham, ragazzi Magari sì, ragazzi Magari sì Certo, ragazzi, ovvio Ragazzi, anche se vi è il link delle magliette Allora Eh, anche se vi è il link delle magliette, ragazzi belli Francesco, gli ho dato il link Park è molto interessante da mezzala Ma anche da Gioci non è male, ragazzi Sì, sì, sì Park va benissimo anche da Gioci Non è... Non è male, non è male Ci sta Anche da Gioci va super bene il buon Park, ragazzi Baggio 97 Wintolos al posto di Verne Baggio non è male Mi piace pure a me, ragazzi Sono uscite lei con i fide, Simox Peccato che chiedo due sfide, ragazzi Peccato, ragazzi Peccato, boys Vabbè, non fa niente, dai Non fa niente Sì, Ale Anche noi non riusciamo ad aprire manco i pick Stanno mezzi con la scocca, ragazzi Stanno mezzi con la scocca, si è vero a quanto pare Malcom è da fare Tanto non costa niente, Malcom, ragazzi Può fare easy Certo, puoi chiedermi tutto quello che vuoi, Liam Chiedete pure, ragazzi Tranquilli, ragazzi Sì, sì Dplay Dplay Tommaso I Dplay Assolutamente sì Tranquillamente, ragazzi Mettete il vostro Dplay e avete risolto Non c'è problema, ragazzi Zaman, chissà Vai Ci sta, ragazzi Herrera Ah, vabbè Herrera, Herrera, vamos Dai, dammi una carta interessante Brother Dammi una carta interessante A me vado lentamente A noi ci hanno cacciati prima dai server Figurati Oddio Pires Vai Eh, okram Sono un attimo con la scocca Sai che Walker Siamo ancora molto forte, Marco Sai che Walker Siamo ancora molto molto valido È un buon giocatore Walker Non è male Ci sta, ragazzi Ci sta Visto tanto che è bello quel Baggio Oggi è uscito Baggio L'icona ripetibile anche, ragazzi Però vuole doppia sfida l'icona Peccato, eh Eh, vabbè Sarebbe stato più facile magari senza Eh, peccato Allora Eh, uscita anche un'evoluzione Che è estetica Trasforma praticamente Se è una carta qualsiasi In una carta toti Bello Eh, quella è una prova per il nuovo FC Secondo me, eh, ragazzi Figata sta roba, ragà Figata Figata sta roba, ragazzi Mamma mia Eh, sì, certo Liam Seguimi su Insta Non ti preoccupare Mi raccomando Ti lascio il link qui, eh Seguimi su Insta per le squadre Sulla video come ti chiami KingGM95, ragazzi Eh, se volete Venite sulla petronoma viola Tavo e fate punto Sgadio PSN Tranquilli Ragazzi Siamo quasi arrivati a 30k like Su TikTok Vediamo se ci arriviamo, ragazzi Che dite? Ce la facciamo anche Che se vi è il link Delle magliette, ragazzi Con Eh, fatemi sapere Ah, Gabri voleva il link Della beta Vai Se vi siete il link Della beta Seguitemi su Insta E mandatemi un messaggio Lì, ragazzi Seguitemi prima E mandatemi un messaggio Siete tranquilli, ragazzi Tranquilli Non c'è problema Tranquilli Forte Gakpo Che ho trovato ieri Molto interessante Gakpo Anche, ragazzi Mi consigli Più di fare il Baggio 97 Lì con la 93 No, io farei Baggio, ragazzi Ma perché con Baggio Mi sono sicuro Sai che ti porti a casa Sono un grande giocatore Secondo me Baggio molto meglio Sì, molto meglio Figuratevi, ragazzi Ci mancherebbe altro Tranquilli Voi mandatemi tutti i messaggi Che volete Tanto io vi recupererò Tutti quanti Da prima all'ultimo Non c'è problema, ragazzi Quando volete A totale e completa disposizione Non fate i problemi Bello, Antonio Bello, bello Mi piace Mi piace quel Baggio Finalmente la carta decente Dai Poi cavolo L'aspettavo tipo da Non so quanto, ragazzi Un bot Grazie Rico per i Prime Un bacione bello mio Ricordo che chi si suba con i Prime Ha anche la possibilità Di fare il fantacalcio Altri gruppo della compravendita Che verrà abilitato da settembre Ragazzi Vi ricordo che grazie Dico gentilissimo Imprimate due link d'accesso I due gruppi Mi raccomando Ovviamente sì, ragazzi Mancano Sì abbonati Vediamo se ce la facciamo Con i Prime, ragazzi Che gratis Vediamo se ce la facciamo Sì abbonati Mancano Mai dire mai VAMOS Cento pic Contenuto Ragazzi Devastante Vediamo che riusciamo A beccare È uscito Baggio stasera Devo levare anche il cronometro Ha ragione Bro È uscito Il living codino È uscito Ragazzi Ciao Niki Bella Antonio Come state Ragazzi Tutto bene Sì sì Baggio sì Sì puoi invitarmi Viva Va bene Va bene Invitatevi ragazzi Baggio chiede nove sfide Antonio Se lo vuoi sapere Baggio chiede nove sfide Però vabbè Con i dobbioni Diciamo che te la cavi Tranquillamente Con i buttati di dobbioni Te la cavi tranquillamente Mamma che carta Che c'ha Baggio Ah ragazzi Sì puoi invitarmi Viva quando vuoi Non ti preoccupare No Insieme sono ripati Mi sa ragazzi Se volete ricevere La beta di FC25 Dovete Ovviamente Mandarmi un messaggio Boys Mi raccomando Sì su Su Insta ragazzi Votete seguirmi E mandarmi un messaggio Su Insta Sto inviando il link Per la richiesta Della beta Quindi dovete seguirmi Su Insta ragazzi Solo quello dovete fare Nient'altro ragazzi No Tex Credo sia un bug Dovete guardare Dalla Companion Credo sia un bug Quello Sì sì Hanno messo Baggio Ragazzi Hanno messo Baggio Figata Bellissimo Bellissimo ragazzi Allora Sì Divino codino ragazzi Codino Allora Mamma mia Eh L'ho visto Ho visto Ho visto Ma magari ragazzi Magari Magari sì ragazzi Sono 50 pic Ragazzi Mamma mia Sì Puoi invitarmi quando vuoi Tanto qua siamo Brother Qua siamo Quando volete Vi invitate via Facile Eh Baggio è carino Ah ragazzi Baggio è carino Fighter Per noi Nostalgici È un toccasano Incredibile Bro Mazzate Non vanno i server Ragazzi Non vanno i server Ragazzi Non ci voglio credere No Baggio per noi Nostalgici È un toccasano Incredibile Ragazzi Cioè È il got Definitivo Ragazzi È il got Definitivo Sì che vi do Il link Della beta Tranquilli Scrivetemi su Insta Ragazzi Ve lo so da tutti quanti Ragazzi Ovvio 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 Ragazzi Baggio costa 400.000 Greti Ragazzi Non costa neanche Mezzo milione Voglio dire Cioè Si può fare Tranquillamente Ragazzi Sì Dai Non costa Veramente nulla Non costa È fattibilissimo Baggio Sono contento Che almeno abbiamo Una carta De bastante Del buon Del buon Di codino Ragazzi Bello Meno male Ci sta Ragazzi Facutone Eh Quatt'ora Non si muore Si muore davvero Si muore davvero No niente Corsa Non ho mai dito Ce l'ho già L'ho presi Quando avevo 18 anni L'ho presi Un bel bel Poi di Un papà Quattro ragazzi Va bene Grazie Sì Sì Ragazzi Baggio Nove sfide Vuole 400.000 Greti Quindi Con calma Si può fare Tranquillamente Ragazzi Senza problemi L'icon È uscita Infinita Ragazzi Si è uscita Infinita L'icon Ragazzi Certo Faremo anche Un contest Lo faremo anche Su tiktok Quindi seguitemi Su tiktok Perché Un contest Lo faremo anche Su tiktok Ragazzi Regalerò ad uno di voi Oltre che Quelli su insta Che facciamo Ne faremo ancora Altri tre Ho la possibilità Di farne anche Altri tre su insta Quindi seguitemi su insta Perché Là voi saprete Quando li farò i contest Ma ne regaliamo Uno anche A chi mi segue Su tiktok Ne farò anche Uno su tiktok Però lo faremo Dopo ferragosto Ragazzi Quindi già Quindi potete Già seguirmi Su tiktok Se volete Non ti vedrai Su ultimate team Guarda che non riusciamo Anche a aprire i pic Noi Andrei Guarda che non riusciamo Neanche ad aprire i pic Noi I server sono Completamente a pezzi Ragazzi Se volete sapere Lo sapere ragazzi Si sono completamente a pezzi Stiamo cercando di Provando Cercare di riuscire a Ad entrare Ma niente ragazzi Niente di niente di niente Ragazzi Eh Shoot Bellingham È bellissimo Anto Magari lo becchiamo Anche noi Col Bellingham Ragazzi Magari si Ragazzi Magari si Certo Ragazzi Ovvio Ragazzi Che seguite il link Delle magliette Allora Eh A chi è che se vi è il link Delle magliette Ragazzi belli Francesco Gli ho dato il link Park è molto interessante Da mezzala Ma anche da Gioci Non è male Ragazzi Sì 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 Park va benissimo Anche da Gioci Non è Non è male Non è male Ci sta Anche da Gioci Va super bene Il buon park Ragazzi Baggio 97 Witton Loss Al posto di Verne Baggio non è male Mi piace pure a me Ragazzi Sono scite lei Con infinite Simox Peccato che chiedo Due sfide Ragazzi Peccato Ragazzi Peccato Beys Vabbè Non fa niente Dai Non fa niente Sì Ale Anche noi Non riusciamo Ad aprire manco i pick Stanno mezzi Con la scocca Ragazzi Stanno mezzi Con la scocca Si è vero A quanto pare Malcom è da fare Tanto non costa niente Malcom Ragazzi Può fare easy Certo Chiedete Tutto quello che vuoi Liam Chiedete pure Ragazzi Tranquilli Ragazzi Sì sì Di play Di play Tommaso Di play Assolutamente sì Tranquillamente ragazzi Mettete il vostro Di play Avete risolto Non c'è problema Ragazzi Zaman chissà Vai Ci sta ragazzi Herrera Ah vabbè Herrera Herrera Vavos Dai Dammi una carta interessante Brother Dammi una carta interessante A me vado lentamente A noi ci hanno cacciati Prima dai server Figurati Oddio Pires Vai Eh Okram Sono un attimo Con la scocca Sai che Walker Siamo ancora molto forte Marco Sai che Walker Siamo ancora molto molto valido È buon giocatore Walker Non è male Ci sta ragazzi Ci sta Visto tanto che è bello Quel baggio Oggi è uscito Baggio L'icona ripetibile Anche ragazzi Però vuole doppia sfida L'icona Peccato eh Eh vabbè Sarebbe stato più facile Magari senza Peccato Allora Uscita anche Un'evoluzione Che è estetica Trasforma praticamente Sì una carta qualsiasi Sì una carta tutti Bello Eh quella è una prova Per il nuovo FC Secondo me eh ragazzi Figata sta roba Ragazzi Figata Figata sta roba Ragazzi Mamma mia Eh sì Certo Liam Seguimi su Insta Non ti preoccupare Mi raccomando Ti lascio il link qui eh Seguitemi su Insta Per le squadre Sulla video come ti chiami KingGM95 Ragazzi Eh Se volete Venite sulla pettina Viola Davo e fate Punta Scatio PSN Tranquilli Ragazzi Siamo quasi arrivati A 30k like Su TikTok Vediamo se ci arriviamo Ragazzi Che dite Ce la facciamo Anche se vi hai il link Delle magliette Ragazzi Con Eh fatemi sapere Ah Gabri voleva il link Della beta Vai Se vi siete il link Della beta Seguitemi su Insta E mandatemi un messaggio Lì ragazzi Seguitemi prima E mandatemi un messaggio Siete tranquilli Ragazzi tranquilli Non c'è problema Tranquilli Forte Gakpo Che ho trotto ieri Molto interessante Gakpo Anche ragazzi Mi consigli Più di fare Baggio 97 Lì Con la 93 No Io farei Baggio Ragazzi Ma perché con Baggio Mi sono sicuro Sai che ti porti a casa Sono un grande giocatore Secondo me Baggio molto meglio Sì molto meglio Figuratevi ragazzi Ci mancherebbe altro Tranquilli Voi mandatemi tutti i messaggi Che volete Tanto io vi recupererò Tutti quanti Da primo all'ultimo Non c'è problema Ragazzi Quando volete A totale e completa disposizione Non Non fate i problemi Bello Antonio Bello Bello Mi piace Mi piace quel Baggio Finalmente la carta decente Dai Poi cavolo L'aspettavo tipo da Non so quanto Ragazzi Un bot Grazie Rico per i Prime Un bacio Un bello mio Ricordo che Chi si suba con i Prime Ha anche la possibilità Di fare il fantacalcio Oltre il gruppo Della compravendita Che verrà abilitato Da settembre Ragazzi Vi ricordo che Grazie Dico gentilissimo Imprimate due link D'accesso I due gruppi Mi raccomando Ovviamente sì ragazzi Mancano Sì abbonati Vediamo se ce la facciamo Con i Prime Ragazzi Che gratis Vediamo se ce la facciamo Sì abbonati Mancano Mai dire mai Ce la posizioni Comunque E tra l'altro C'è anche l'evoluzione Quella di R9 È vero È vero C'è anche l'evoluzione Quella di R9 Che è carina Comunque Però Sì 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 Mi piace Mi piace L'evoluzione di R9 È carina Vero ragazzi Verissimo Verissimo Grande R9 Grande R9 Ragazzi Fenomeno È un'evoluzione di R9 È un'evoluzione di R9 È un'evoluzione di R9 Capcom compreso Ragazzi Anche la WPup Mi sa che è mezza Ripata Comunque Mamma mia Figurati Da che finisio giocare Dal primissimo Su Xbox Ragazzi La versione Niente ragazzi Sembra Buggato Sembra Buggato Sempre gli stessi escono Sione Ah finalmente Müller Almeno qualcuno è diverso Ma ripeto Sembra Buggato Ragazzi Questi sempre escono Sempre Sochkov Beno Ma Quest'aico Magari È decente Ragazzi No Questo no Sicuramente L'uomo Quelli sono Ragazzi C'è poco da fare Sione Ah finalmente Müller Almeno qualcuno è diverso Ma ripeto Sembra Buggato Ragazzi Questi sempre escono Sempre Sochkov Beno Mamo Quelli sono Ragazzi C'è poco da fare Quest'aico Magari È decente Ragazzi No Questo no Sicuramente L'uomo Niente Ragazzi Sembra Buggato Sembra Buggato Sempre gli stessi escono